Certo, come hai detto te, ringrazio, però comunque da parte di tutti c'è stata subito la voglia, proprio quei primi 5-2 minuti 10 dove abbiamo preso questo gol, di battarla subito perché volevamo a tutti i posti comunque portare a casa questo risultato. Ci sono stati bravi a riprenderla e ci sono stati bravi anche verso la fine comunque a non mollare nello stesso tempo, a non sbilanciare più di tanto perché comunque bastava anche un piccolo episodio magari a favore loro e rischiare comunque di perdere la partita, che comunque alla fine è questo punto molto importante. Ecco, sul gol, sia sul primo gol che sul secondo, c'è stato qualche errore intensivo, sul primo ti ha sorpreso un po' Cassario, sono già lì che ti ha preso quanti battagli di tipo libera e sono giure. Sì, non l'ho visto mai, ragazzi. Diciamo che sul cambio gioco mi l'ho annunciato, lui poi a seconda palla, l'ho contenuto poi è stato un po' di sinistro.